Oggi trattiamo l'utilizzo di una schedina per ethernet, la V5005. Utilizza il chip di Wiznet 5005 molto diffuso, oggi economica, vi permette di collegare al vostro Arduino via SPI una presa di rete per avere un indirizzo IP quindi per usufruire o offrire servizi internet. Iniziamo subito. Oggi vediamo come collegare una schedina per ethernet ad Arduino. La schedina in questione è la V5500 SPI che utilizza un chipset della Wiznet, la trovate in vendita come breakout board o come shield per Arduino. Come breakout board è una tavoletta con il classico bocchettone per collegare la presa di rete con avanti le due lucine, qui collegate il vostro RJ45 della rete locale che magari arriva dal vostro router e qua ha tutta una serie, una decina dire il vero, di pin che saranno per collegare la scheda ad Arduino. Rispetto a una volta queste schede hanno un costo molto basso la trovate a costo di qualche euro. Giusto per capirci è un oggetto di questo tipo. Se dovete acquistarla fate attenzione al tipo di chipset perché non esiste solo il V5005, ne esistono anche altri, potreste avere delle difficoltà con le librerie. La schedina che ho acquistato io ha da questa parte il connettore per l'RJ45 di Ethernet mentre qui ha una decina di pin per la connessione con Arduino. Il tipo di interfaccia è la SPI, viene alimentata a 5.3 volt perché ha uno stabilizzatore di tensione quindi qui mettete 5 volt, potete eventualmente anche dare i 3,3 volt o eventualmente recuperarli dalla scheda. Abbiamo un ground subito sotto e poi abbiamo gli altri pin con vari nomi. Quindi abbiamo qui il miso, i classici pin del SPI, qui abbiamo il MOSI, poi il CS che è il chip select e poi il CLR. Subito sotto al ground abbiamo il reset, poi un pin non connesso e l'altro che serve nel caso vogliamo rilevare una internet, quindi nel caso venga risvegliata questo può mandare un internet ad Arduino per farlo riattivare. Potete collegare questa scheda tirando dei fili verso Arduino, ho il pin miso su Arduino corrisponde al pin 12, il pin MOSI è l'11, il CLR che a volte è chiamato anche SCK e il pin 13 di Arduino. Il chip select dipende, potete usare solitamente il 10 che è quello che viene destinato questo tipo di utilizzi però se voi avete più schede SPI immaginate di avere una scheda di rete Ethernet, SPI come la 5005, di avere poi magari un lettore di SD card, anche lui via SPI. Ma come li collegate con l'Arduino? Allora avete qua il vostro Arduino, questi devono condividere i fili 11, 12 e 13 che sono appunto SCK miso e MOSI, quindi avrete il pin 13 che parte e va su entrambe le schede. Avete il pin 12, facciamolo in giallo per non confonderci che anche lui parte e va su tutte le schede. Avrete poi il pin 11 che è il MOSI che anche lui raggiunge entrambe le schede. Poi per pilotare differenti schede utilizzando la SPI dovete avere più CS, quindi avrete per esempio il pin 10 e il pin 9, quindi il pin 10 lo utilizzo per andare a pilotare la prima delle due schede e il pin 9 lo utilizzo per andare a controllare l'altra schedina, quindi potete sceglierlo. Di solito le librerie delle SPI vi permettono di indicare il pin che volete destinare a chip select. Una volta collegata la scheda potete verificarne il funzionamento, ma dovete ricordarvi o segnarvi il MAC address. Il MAC address è l'indirizzo fisico del chip che c'è a bordo. Solitamente ve lo dà il costruttore, se la scheda è stata fatta bene sulla parte retrostante dovreste trovare un'etichetta con sei numeri esadecimali, per esempio 0E A E 1 D 0 1 0 2 0 3, una cosa del genere, adesso l'ho inventato proprio. Dovete segnarvi questi numeri che sono il MAC address perché poi vi serve per la libreria. In teoria ogni scheda sulla rete deve avere un indirizzo univoco, altrimenti succedono disastri. E' diverso questo dall'indirizzo IP che viene assegnato da un livello più alto. L'indirizzo IP invece è un numero tipo 192.168.1.101. Queste informazioni le potete trovare per esempio sul router che usate per la connessione internet a casa. Se avete tipo una DSL di quelle classiche potete entrare nel router, quindi nel pannello di configurazione, vedere i dispositivi collegati, per tutti i dispositivi vi fa vedere l'indirizzo IP e spesso danno anche il MAC address nel caso non ci sia l'etichettina. Quindi recuperatelo in questo modo. I router spesso sono in modalità DHCP che significa che l'indirizzo IP non lo specificate voi a mano sulla scheda ma vi viene assegnato direttamente dal vostro box. Quindi è lui che vede se ce n'è un indirizzo libero e lo dà alla scheda. Altrimenti anche con il DCP attivo voi potete andare a vedere un indirizzo IP libero. Se volete che la vostra scheda abbia sempre quell'indirizzo potete andare a impostarlo direttamente nel software. Il software per provare questa schedina non starei a scriverlo ma lo troviamo già pronto negli esempi di Arduino. Quindi andiamo sotto file, example, qui trovate la sezione ethernet, qui sotto avete DHCP address printer. è uno sketch molto semplice che serve per far collegare la scheda di rete al router. Quindi farsi dare un indirizzo IP. Ricordatevi di cambiare il MAC address della scheda utilizzando quello corretto quindi quello del vostro hardware e poi qui potete inizializzare la libreria ethernet. vedete è stata inclusa con un include. C'è anche il SPI perché è hardware che funziona in SPI. Potete configurare la scheda liberando, scommentando una di queste righe. Quindi se la vostra scheda shield ha il chip cell collegato sul pin 10 userete questa altrimenti modificherete di conseguenza questo pin. Subito dopo lo sketch prepara la seriale. Quindi questo su molte schede non è necessario. potete inizializzarla direttamente e poi inizializza la connessione ethernet con begin e mac passando il mac address. Questo fa sì che sia avviata la contrattazione con gli hcp per ottenere un indirizzo IP. Una volta che l'indirizzo è stato ottenuto viene stampato con la serial print. Quindi a voi interessa solo questo passaggio. Se tutto funziona siete sicuri di aver cablato la scheda nel modo corretto e che tutto sia a posto. Quindi siete pronti per utilizzare protocolli TCP UDP e collegarvi a internet. Non dovrebbero esserci dubbi o particolari problemi nell'utilizzo di questa scheda. Tra l'altro come avete visto non ho installato nessuna libreria particolare perché funziona nativamente con le librerie che abbiamo dentro Arduino. Quindi molto comodo. Bene vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani. Ciao!